Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video Oggi sono in compagnia di Chiara mia sorella che è anche un canale youtube quindi seguidela e che si chiama Chiara Macci e niente, praticamente oggi facciamo tra la partita sta ferma oggi facciamo un video sul dondolo che si muove facciamo la challenge che è una challenge che sta andando più o meno adesso in questo periodo, tra virgolette quindi praticamente lei mi dice dei nomi di youtuber e io devo dire se li bombo o li passo se li conosco, pure stranieria capito? Marco Leonardo aspetta se mi fai cose un attimo 1, 2, 3, via Marco Leonardo scusate se ho raffreddata vi metto la foto e no lo passo perché è un bel ragazzo però non c'è quella cosa che non lo so non lo so no Francesco Barbuto perché devi soppiare i nomi Giuseppe 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 e l'ho iniziato a seguito a poco quindi non ce ne frega niente a noi quindi Chiara smettila l'ho iniziato a seguito a poco però comunque è un bel ragazzo quindi Chiara da però quindi lo bombo Matteo Mattea Ruta non so chi è non lo conosco e mettebise quindi lo passo perché insomma chi è cioè ormai ti ho detto fai piano mettebise due che due li vedrei più come i due amici proprio amici amici con cui ride perché perché ah si ne fanno ride e però no li passo perché appunto li vedrei solo come amici per ride Anthony mi piaceva di più mi piaceva di più quando faceva i primi video che aveva tipo il il ciuffo vabbè eccetera e mi piaceva di più quindi lo passo non so più che dirti madonna dai lei lo spiega un po' di Leila Pedro sì non è che è meglio che le ha detto sì però vabbè è quello dai vi gioco vabbè e ma tanto a quello che dici sì Chiara lei mi mette con sti gambe ok vabbè sì dai ma ragazzi yes attenta Leila si ingerosisce questo era il video chiuditemi sono sono morto niente questo era il video speriamo vi sia piaciuto io lo spero e mettete like se il video vi è piaciuto se non vi è piaciuto mettetelo lo stesso scusate che cosa dico penso parlare intruse del video però vabbè dai e niente quindi spero il video vi sia piaciuto commentate se volete un secondo video di questa challenge se volete chiedete di sta ferma se volete se volete che faccio un altro video di questo di questa stessa challenge però magari mi volete consigliare voi qualche youtuber che vedete giù nel commento poi faccio un altro video appunto in cui rispondo ai vostri youtuber che mi avete scritto niente vi mando tantissimi bacioni mettete like e che ci vediamo al prossimo video ciao 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 ma come spegne